Musica 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 Buongiorno a tutti, come lo portatevi all'equipo, come lo portatevi? Benissimo, speriamo per il partito. Si, oi, lo portatevi qualcosa per settimana per preparare il giorno di oggi? Si, come lo portatevi per settimana, non lo portatevi. Si, che venis, molti d'equipo, perché sono dei conti, no? Quanti sois, più o meno? Non lo so, non lo so, non lo so. Però si sono siete, per lo meno. Si, sicuramente. Venga, che tutto salga bene e per lo meno che non ci sia una caida. D'accordo, grazie. Venga, che non ci sia una hostia, passatevi bene. No, non lo so, non lo so. No, non lo so, non lo so. No, non lo so. Che se os vea, perché poi dicono, non fuisteis? Si, fuisteis. Perché se os vea, no? Ah, bene. Venga, che te lo salga bene, eh? Vais a calentar. Ah, stas come un burro, ahi, mira. Come me los atiendes, bene, no? A ver, bicicletas caldentei, dejai me sacar la publicità. C'è? 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 E? E te vienes a apoiarlos otra vez? Exactamente. Claro. Non ti entran ganas di correr? Claro che sì, io sempre ho 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 ho. Sì. Vas a andare alla Challenge, ora, a la Volta di Mallorca, e cosa? Non so, perché sto di viaggio. e non credo che possa andare. Sì, che stai un pochettino un bajo, no? Eh. Però, bueno, per lo meno a mirar. Exacto, exacto. Eh? Che già è molto, il mirare è molto. Exactamente. Eh? Venga, che tutto sarà bene, eh? Sì. Io vorrei fare la pubblicità di tutto questo. Beh, che stai una nu, allo c'è il gaggio. Allo c'è un pochetto? Neanche, non l'è un pochetto. Non c'è un pochetto, non c'è un pochetto. C'è un pochetto per amici. Non c'è un pochetto per amici... Alla ma... Un ermita di... Guardate vi... ... Quittano...